Il segretario di Stato americano Pompeo in Vaticano viene ricevuto in udienza dal suo omologo della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Non vedrà invece il Papa. Resta infatti alta la tensione. Ieri Pompeo ha attaccato il Vaticano per l'accordo con la Cina sulle nomine dei Vescovi. Secca la replica della Santa Sede che accusa Trump e Pompeo di voler strumentalizzare il Papa. Monsignor Abbeciur respinge le accuse, minaccia querele, ma nell'inchiesta interna al Vaticano spuntano altri investimenti immobiliari a Londra per 100 milioni di sterline, oltre all'acquisto del lussoso palazzo nella City che ha dato via libera all'indagine sui conti segreti della Segreteria di Stato. È possibile che in alcuni casi la Santa Sede sia stata oltre che mal consigliata anche truffata, afferma padre Guerrero, prefetto per l'economia della Santa Sede. Giuseppe Conte a pochi giorni dalla scadenza del 15 ottobre annuncia che l'esecutivo andrà in Parlamento per chiedere un prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Misura resa necessaria di fronte all'aumento dei contagi. Lavoriamo per evitare nuovi lockdown, dice il ministro Speranza, che auspica test rapidi a breve in tutte le scuole. Il tasso di disoccupazione scende ad agosto al 9,7%, ma continua a salire tra i giovani, arrivando per la fascia di età 15-24 anni al 32,1%. Prosegue la crescita degli occupati, già osservata a luglio, 83 mila in più. Si tratta soprattutto di uomini e di lavoratori autonomi, ma rispetto a febbraio mancano all'appello 350 mila posti di lavoro. L'Atalanta vince 4-1 in casa della Lazio e si candida per il vertice. Inter a Valanga, 5-2 a Benevento, storica vittoria dello Spezia. Lega divisa intanto sul rinvio della partita tra Genoa e Torino. Salgono a 15 positivi tra i Liguri e il resto della squadra non è stato dato il via libera agli allenamenti. Preoccupazione nel Napoli, che oggi si sottoporrà al secondo giro di tamponi. Una buona giornata dal telegiornale della Sette. Dunque ricominciamo riannodando i fighi di quella che è stata una giornata davvero ad alta tensione ieri, che a poche o precedenti, visto che si è arrivati a sfiorare la crisi diplomatica tra Stati Uniti e Santa Sede, in coincidenza della visita del segretario di Stato americano Pompeo, che oggi proverà a ricucire sul dossier cinese. Proviamo a riassumerlo così vedendo in Vaticano Parolin. Non vedrà il Papa. Naturalmente lo scambio pubblico di rivendicazioni, dicevamo a poco precedenti, anche nella storia pubblica della Santa Sede. Dunque cominciamo da qui e cerchiamo di capire a che punto siamo a livello anche di tensioni crescenti. Il pontefice non incontra leader politici in campagna elettorale, si affretta a spiegare la sala stampa vaticana. A ricevere il segretario di Stato Mike Pompeo oggi, dunque, è il suo omologo della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin. Chi semina vento raccoglie tempesta. Ricorre ad un noto proverbio il portavoce dell'ambasciata cinese in Italia per commentare le dichiarazioni con cui il segretario di Stato americano Mike Pompeo, da ieri in visita a Roma, avrebbe nuovamente diffamato il partito comunista cinese. Donald Trump non strumentalizzi il Papa per la sua campagna elettorale, aveva detto ieri il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher. A un mese dal voto per la presidenza degli Stati Uniti, la visita a Roma del numero uno della diplomazia a stelle e strisce porta con sé non pochi malumori. A precederne l'arrivo in Italia era stato l'articolo pubblicato sulla rivista cattolica statunitense First Things, in cui Pompeo invitava il Papa a non rinnovare lo storico accordo firmato due anni fa per la nomina dei vescovi condivisa con la Cina. Per non mettere a rischio l'autorità morale del Vaticano. A sottolineare forti preoccupazioni per la situazione dei diritti umani in Cina e a Hong Kong, due giorni fa era stato anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, nella lettera di invito agli stati membri a partecipare alla prima riunione straordinaria di oggi e domani. Seppure disposta a collaborare con Pechino per affrontare le principali sfide globali, come il Covid-19 e i cambiamenti climatici, si legge nella missiva, l'Unione a 27 insiste su una relazione economica più equilibrata e reciproca che garantisca condizioni di parità. Il lavoro di Sant'Egidio è nobile perché arriva dove la politica non può arrivare e realizza ciò che la politica non riesce a realizzare, sottolinea il segretario di Stato americano nel colloquio con i vertici della comunità. Ieri, nei faccia a faccia sia col Premier Conte sia col Ministro degli Esteri Di Maio, Pompeo aveva ribadito che Pechino è una minaccia per la sicurezza internazionale e che il Partito Comunista cinese potrebbe voler sfruttare la propria presenza in Italia per fini strategici. Sviluppo del 5G, Libia e Bielorussia, gli altri argomenti trattati. Dopo Grecia e Italia, domani il segretario di Stato americano sarà in Croazia nell'ambito del suo giro mediterraneo per discutere la situazione generale nei Balcani e i rapporti bilaterali col governo di Zagabria. Come è noto, gli Stati Uniti richiedono ancora i visti per 4 delle 27 nazioni dell'Unione Europea, Bulgaria, Romania, Cipro e, appunto, Croazia. Non che sia anche sotto altri aspetti un momento particolarmente felice per il Vaticano. Lo stesso Parolini ha detto che è un momento triste. Bisogna assicurare il Papa sulla via della trasparenza. Beh, a cercare di indagare nelle carte dell'inchiesta interna alla Santa Sede questa via è tutt'altro che stata percorsa negli ultimi tempi. Aria di tempesta in Vaticano, con l'eco degli scandali finanziari, il caso degli immobili di Londra, le vicende legate a Monsignor Angelo Becciu, dimesso dal Papa da Prefetto delle Cause dei Santi e, cosa quasi mai successa prima, dai diritti del Cardinalato. Una vicenda giudiziaria che si muove tra nuovi vereni, smentite, polemiche. Un quadro che stamattina fa dire al Segretario di Stato Vaticano Cardinale, Pietro Parolin, parole forti e piene d'amarezza. La vicenda di cui siamo testimoni ci ha profondamente rattristati. È un momento triste nel cammino della Chiesa. Speriamo che le cose si possano chiarire. Auspica il primo collaboratore del Papa. La domanda se anche altri porporati perderanno il posto, Parolin risponde con un lacolico, non lo so. È possibile che in alcuni casi la Santa Sede sia stata truffata, dice il Prefetto per l'economia del Vaticano, padre Guerrero Alves, che si augura che le finanze della Santa Sede siano casa di vetro. Le indagini sul controverso acquisto dell'edificio di Londra, quando Becciu era sostituto agli affari generali della Segreteria di Stato, un lussuoso palazzo in Sloan Avenue, quartiere Inn, costato nel 2014 oltre 300 milioni di euro, sono partite dal Vaticano affidate alla Guardia di Finanza. Al centro anche la presunta erogazione di centinaia di migliaia di euro, dalla CEI e dall'obolo di San Pietro alla COP gestita dal fratello di Becciu. Lo scandalo è finito sui giornali di tutto il mondo. Repubblica oggi ha le carte dell'inchiesta, secondo cui l'investimento sarebbe stato il pretesto per quella che gli stessi inquirenti definiscono una manovra ben pianificata per realizzare un'ingente depredazione di risorse finanziarie della Segreteria di Stato che non ha uguali per mettere le mani perfino sul conto riservato di Papa Francesco, la più protetta delle casse vaticane. E il Financial Times rivela che il Cardinale Becciu avrebbe investito ulteriori 100 milioni di sterline in un portafoglio di appartamenti di altissimo livello in zone più costose di Londra. Il Cardinale Angelo Becciu smentisce, rivendica la sua innocenza e minaccia querele. Allora torno per un attimo sulla mattinata in Vaticano perché si è concluso dopo 45 minuti l'incontro tra il segretario di Stato americano Pompeo e il segretario di Stato di sua santità Parolin. Il comunicato è quello della Santa Sede. Il clima è stato un clima di rispetto disteso e cordiale in cui le parti hanno presentato le rispettive posizioni riguardo ai rapporti con la Repubblica Popolare Cinese. Andiamo adesso al fronte più strettamente economico. Abbiamo capito che la prossima sarà una settimana importante e delicata per il Presidente del Consiglio Conte e per il suo esecutivo se non altro perché sappiamo che nella serata di lunedì in Consiglio dei Ministri arriverà il dossier che riguarda le modifiche ai decreti sicurezza che sappiamo tante complicazioni stanno creando e tensioni in queste ore anche nella sintesi da trovare tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Poi c'è il dossier economico e anche a quello arriveremo ma c'è soprattutto la gestione dell'emergenza legata al Covid e dunque una data di cui si parlerà da questa mattina per la proroga delle misure che potrebbe accompagnarci fino alla fine di gennaio del 2021. Proporremo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Giuseppe Conte a pochi giorni dalla scadenza del 15 ottobre ultima data indicata per lo stato di emergenza annuncia che l'esecutivo andrà in Parlamento per chiedere un allungamento dei poteri straordinari ad un anno esatto dal loro inizio misura necessaria di fronte all'aumento dei contagi ufficializzando una notizia circolata dopo il Consiglio dei Ministri di ieri passo già criticato dalle opposizioni che lamentano lo scarso coinvolgimento su decisioni importanti per il Paese e accusano il governo di ricorrere allo stato di emergenza per favorire la sua stessa sopravvivenza. Questa maggioranza non decide su nulla, dice il leghista Molteni in tempo reale basta guardare i decreti Salvini se ne discute tanto ma è passato un anno e sono ancora lì ma proprio il Premier Conte oggi assicura che il dossier sicurezza approderà nel Consiglio dei Ministri di lunedì inizialmente previsto per domenica ma poi rinviato per aspettare la chiusura delle urne per i ballottaggi un assist, quello del Premier, al PD che dopo le regionali ha molto insistito per incassare le modifiche alla legge targata Salvini ed ereditata dal precedente governo giallo-verde ma se il PD punta ad una revisione ampia ben più estesa dei rilevi del Quirinale appellandosi all'accordo di maggioranza siglato quest'estate i Cinque Stelle tornano a dividersi con un pezzo del movimento ostile ad un intervento massiccio a cominciare dalla reintroduzione della protezione umanitaria modifiche sulle quali Salvini a due giorni dal processo di Catania annuncia battaglia se verranno torti i poteri alle forze di polizia raccoglieremo le firme ma nella riunione di governo lunedì altra portata importante saranno i conti pubblici e la manovra 2021 e sullo sfondo ma non troppo la riforma fiscale sulla quale hanno puntato per rilanciare il dialogo tra i rispettivi partiti e l'azione di governo Di Maio e Zingaretti tutti d'accordo sulla necessità di abbassare le tasse e rivedere il sistema ma sul come ancora si discute Si discute a dire realtà anche sul come gestire l'emergenza Covid lo sapete ci sono una serie di difficoltà da superare l'ultima in ordine di tempo riguarda la prossima scadenza definita importante anche dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità l'accesso al vaccino antinfluenzale che lo chiariamo non copre dal contagio al Covid ma aiuta per esempio a arrivare a una diagnosi differenziale che fa la differenza in una gestione della pandemia la curva dei nostri contagi è sicuramente ancora sotto controllo anche se in graduale aumento ben meno pressante rispetto ad altri paesi europei l'immagine che il Ministro della Salute questa mattina ha scelto è di un paese col coltello tra i denti per altri 7-8 mesi nel senso che bisogna in modo puntuale stare attenti ai comportamenti con delle regioni in questo caso nelle ultime ore Lazio e Campania che sembrano più esposte rispetto ad altre Lavoriamo perché si evitino nuovi lockdown e monitoriamo la situazione passo per passo territorio per territorio così ha commentato questa mattina il Ministro della Salute Roberto Speranza ha ricordato che i numeri dell'Italia relativi ai contagi sono di gran lunga inferiori a quelli degli altri paesi europei ma che comunque questo non ci deve far stare tranquilli il Ministro si auspica che a breve ci siano delle buone notizie sul fronte del vaccino anticovid ma intanto ha detto in questi 7-8 mesi che ci attendono bisogna resistere col coltello tra i denti con tutti i mezzi a partire dal vaccino antinfluenzale le regioni hanno fatto uno sforzo enorme che ha consistito in un aumento delle dosi pari al 70% rispetto all'anno scorso ma sembra non bastare secondo gli ultimi dati solo un cittadino Suttè avrebbe la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza mentre in ben 7 regioni ci sarebbero difficoltà persino per la vaccinazione delle persone più a rischio sulla questione della fornitura di dosi le farmacie Speranza dice va affrontata e risolta insieme alle regioni una tutela in più anche perché la curva dei contagi da coronavirus in Italia continua a crescere anche se lentamente 1851 contagi nelle ultime 24 ore quasi 200 in più rispetto al giorno prima a fronte però di 15.000 tamponi in più 105.000 la Campania rimane anche nelle ultime 24 ore della regione con più contagi 287 seguita dal Lazio con 210 per Rodolfo Conenna direttore sanitario dell'ospedale dei Colli di Napoli per capire la circolazione del virus non basta pensare solo alla movida o al cattivo uso dei dispositivi di protezione sicuramente è ovvio non esiste più un gradiente nord-sud dell'epidemia l'epidemia segue le linee sostanzialmente della popolazione quello che vediamo in regione è prevalente nelle aree metropolitane dove più intensa è la vita sociale va anche compreso qual è la politica dei tamponi per intenderci con un'estremizzazione se faccio tamponi a 10.000 persone a caso avrò un certo numero di positivi se tampono 10.000 contatti di persone positive avrò moltissimi positivi è come se con le vacanze estive le carte si fossero mescolate e ora le regioni a soffrire di più sono quelle del centro-sud dove il virus era circolato meno nei mesi di marzo-aprile ha detto l'infettivologo Galli del Sacco di Milano poi c'è un altro dossier che sta cominciando a diventare storico nel senso che rispetto all'accordo trovato e sbandierato a metà luglio la situazione per la concessione di autostrade è tutt'altro che risolta tanto da far dire allo stesso presidente del consiglio oggi che la questione potrebbe tornare e tornerà in consiglio dei ministri perché il quadro anche pistolare una serie di logoramenti successivi che per ora non sembrano trovare una soluzione in un braccio di ferro che in effetti da parte di Aspi cambia il quadro rispetto a quanto si era raggiunto in piena estate nella estenuante trattativa tra autostrade e governo c'è l'ennesimo rinvio ieri un vertice interministeriale convocato per cercare di uscire dall'impasse ha deciso di concedere altri dieci giorni ad Atlantia la holding della famiglia Benetton che controlla autostrade per cedere la sua quota a cassa depositi e prestiti come previsto dagli accordi di luglio pena la revoca delle concessioni quegli accordi di luglio sembravano aver portato finalmente dopo due anni a una svolta la famiglia Benetton finita nell'occhio del ciclone dal tragico crollo del ponte Morandi a Genova usciva gradualmente di scena e al suo posto entrava lo Stato attraverso cassa depositi e prestiti insieme ad altri investitori poi ad agosto già i primi segnali di nervosismo la scorsa settimana lo strappo un botte risposta epistolare fra Aspi Atlantia e cassa depositi e prestiti scompagina tutto Atlantia si dice intenzionata a procedere con un processo di dual track un doppio binario che prevede due opzioni o scissione della società e conferimento della sua quota in autostrade l'88% in una nuco o vendita diretta della quota al miglior offerente cassa depositi e prestiti dice no così si cambiano le carte in tavola e poi pretende la manleva cioè essere sollevata dalle responsabilità del passato vedi Ponte Morandi a sua volta Atlantia risponde picche la manleva non era prevista e non esiste nella storia delle grandi operazioni di mercato infrastrutturali il nodo appunto sta tutto nel mercato Atlantia è una società quotata un colosso mondiale con investitori internazionali a cui deve rendere conto che da due anni vive in un limbo con la spada di Damocle della revoca delle concezioni sulla testa revoca richiesta a gran voce dal Movimento 5 Stelle Aspi Atlantia chiedono quindi una soluzione equa ragionevole soprattutto di mercato in cui gli azionisti siano protetti dagli effetti negativi di un eventuale procedimento penale anche la Commissione europea sta seguendo la situazione valutando conseguenti azioni l'impressione che ci vorrà ancora tempo servono soldi per l'operazione e il governo potrebbe aver bisogno di quelli in arrivo dall'Europa con il Recovery Fund l'eventuale revoca poi potrebbe avere effetti gravi per tutti il processo sarebbe lungo e costoso e a rischio ci sono 7.000 posti di lavoro e debiti che si dovrebbe accollare lo Stato per circa 16 miliardi anche perché come è emerso nella giornata di ieri la strada per l'accessor ai fondi del Recovery Fund è una strada che appare ancora in salita o comunque dal percorso più tortuoso del previsto non in questo senso a dire la verità si è espresso il nostro Ministro Gualtieri oggi rispetto ai ritardi nel negoziato registrati nella giornata di ieri ha detto Gualtieri era uno scenario prevedibile elementi che potevamo in qualche modo aspettarci sicuramente poi il negoziato andrà a buon fine sulle Recovery Fund e sull'occasione da non perdere ha detto qualcosa in questi minuti anche il numero uno di Confindustria Bonomi ha detto è una grande occasione per il Paese ho paura temo che non verrà colta peraltro nella giornata di oggi lo stesso Bonomi ha speso parole importanti dopo l'incontro all'Assemblea con il Presidente del Consiglio registrando un'apertura dell'esecutivo e promettendo un atteggiamento collaborativo non si può fare diversamente anche perché il quadro economico è quello che conosciamo di forte perdita del PIL e con ancora una strada ben chiara da percorrere che è quella relativa al recupero dei posti di lavoro come certifica anche l'Istat L'estate ha rimesso in moto il mercato del lavoro dopo i duri mesi del lockdown ma non per tutti ancora una volta infatti i giovani restano ai margini e sempre più penalizzati ad agosto infatti l'Istat ha registrato un aumento della disoccupazione giovanile di tre decimi rispetto a luglio arrivando così al 32,1% in pratica su 100 giovani ben 32 non trovano un'occupazione e il dato segnala ancora una volta come la battaglia per garantire un futuro lavorativo alle nuove generazioni e di conseguenza anche al paese debba essere in cima alla lista delle cose da fare per portare il paese fuori dalla peggiore crisi economica dal dopoguerra un imperativo categorico per il governo ma andando ad analizzare anche gli altri dati pubblicati dall'Istituto di Statistica non si possono non cogliere i segnali sebbene lievi di una ripresa l'Istat infatti così come era già successo a luglio ha registrato anche ad agosto un calo del tasso di disoccupazione generale di un decimo di punto su base mensile attestandosi al 9,7% in calo anche il tasso di inattività che scende al 35,5% un dato da tenere sempre in considerazione perché il numero di chi non ha un lavoro e neanche lo ha cercato nei mesi di chiusura delle attività produttive era letteralmente schizzato verso l'alto un mercato del lavoro che dunque piano piano si va normalizzando ma che non ha ancora i livelli che si avevano prima del covid e nemmeno l'anno passato passando ai numeri reali infatti l'Istat ad agosto ha registrato 83.000 occupati in più rispetto al mese precedente ma allargando il confronto con la situazione del mercato del lavoro a febbraio prima cioè che scoppiasse la pandemia da coronavirus vediamo che mancano all'appello 350.000 lavoratori ma è con l'agosto del 2019 che il bilancio diventa ancora più negativo in un anno infatti si sono persi oltre 400.000 posti di lavoro insomma la strada per recuperare il terreno perduto è ancora lunga allora torniamo in Lombardia torniamo su quell'inchiesta che ricorderete quella sui camici Lombardi e soprattutto sulla posizione del governatore Fontana una differenza importante è capire cosa sapeva il governatore Lombardo su questa questione e soprattutto quando ha saputo cosa ci sono elementi nuovi perché si è saputo che è stato ascoltato si sapeva ascoltato in procura l'assessore Cattaneo che è peraltro il responsabile della task force regionale della gestione dell'emergenza e le sue parole potrebbero dare elementi nuovi e importanti c'è un dettaglio importante nell'inchiesta milanese che vede il governatore Lombardo Attilio Fontana indagato per frode in pubbliche forniture un dettaglio che non è finito nei verbali depositati dai PM ma che sarebbe stato svelato dall'assessore Raffaele Cattaneo a capo della task force regionale sulla fornitura dei 75 mila camici affidata in piena emergenza covid all'azienda del cognato di Fontana e di sua moglie trasformata poi dal governatore in donazione quando Cattaneo fu sentito a luglio come persona informata sui fatti secondo il quale Fontana era a conoscenza di quella fornitura anche prima dell'affidamento del 16 aprile l'assessore avrebbe raccontato ai PM di aver informato Fontana subito perché non voleva che fosse messo in difficoltà da quell'operazione e che lo stesso governatore avrebbe preso atto dell'informazione non nascondendo le superplessità un altro elemento che sembrerebbe smentire la versione ufficiale di Fontana che ha sempre sostenuto di non sapere nulla di quell'affidamento diretto fino all'11 maggio quando poi lui stesso decise subito di convertirlo in donazione nelle chat sequestrate dalla procura di Milano del telefonino del cognato Andrea Dini questi già il 6 aprile si rivolgeva contrariato al responsabile di un'azienda di tessuti per aver saputo che la ditta non poteva rifornirlo è stato Cattaneo è mio cognato il governatore Fontana a dirmi di contattarla si regge nel messaggio intanto gli inquirenti stanno passando a setaccio gli incroci di messaggi su questa vicenda estrapolati da 11 cellulari sequestrati a persone non indagate ma funzionali all'indagine come la moglie di Fontana il capo della segreteria del governatore Giulia Martinelli e gli assessori Cattaneo e Caparini una ricerca mirata attraverso una serie di parole chiave e non è escluso che a queste chat possa aggiungersi anche quella di Fontana presa dal suo cellulare sequestrato dai magistrati di Pavia su un'altra inchiesta quella sul caso di Asorin San Matteo provvedimento impugnato al riesame dal legale del governatore Lombardo in caso di rigetto i PM milanesi potrebbero chiedere copia a quelli di Pavia purché si tratti di elementi inerenti all'inchiesta sui camici ma le indagini si concentrano anche su quel conto in Svizzera scudato dal quale partì il tentativo di bonifico da parte del governatore al cognato per risarcirlo dei mancati introiti sulla fornitura L'azione della polizia di Trapani per una vicenda davvero sconcertante sono state arrestate tre persone che secondo l'accusa sono rese responsabili di vere e proprie spedizioni punitive a caccia di persone extracomunitarie cerchiamo di ricostruire quanto accadeva le indagini sono concentrate su diversi episodi avvenuti nel centro storico di Marsala durante l'estate il branco andava a caccia delle vittime spinto dall'odio razziale si scagliava contro di loro colpendo e con calci e pugni ma anche con spranghe e bastoni e urlando di andar via gli arrestati appartengono al gruppo dei tifosi ultras del Marsala Calcio già sottoposti ad Aspo chi prendeva le difese degli extracomunitari veniva a sua volta minacciato e picchiato gli arrestati che sono tutti di Marsala sono accusati di violenza privata minaccia e lesioni personali andiamo allora all'estero andiamo agli Stati Uniti un spettacolo imbarazzante questo è uno dei commenti più generosi arrivati dopo il primo dei tre confronti televisivi tradono al Trump e lo sfidante democratico Biden davvero non ha funzionato nulla né nella gestione né nell'esposizione degli argomenti né nel rispetto comune che ci vuole delle persone né anche negli ascolti che non hanno premiato ben al di sotto di altri precedenti e delle aspettative e dunque qualcosa si deve forzatamente cambiare per rendere gli argomenti fruibili e per provare a far chiarezza negli elettori peraltro la strategia di Trump una strategia di attacco per cercare di intimidire lo stesso Biden non ha funzionato a quanto pare anche in termini poi di sondaggi successivi signori si fa per dire si cambia così non si può andare avanti la commissione che regolamenta i dibattiti presidenziali ha reagito allo spettacolo offerto da Trump e Biden martedì sera annunciando una revisione dei criteri già per i prossimi due appuntamenti il 15 ottobre a Miami in formato town hall cioè con domande poste dal pubblico e il 22 ottobre a Nashville dove si tornerà alla formula classica i due soli con un moderatore ma fare da moderatore si è rivelato un'impresa superiore alle forze di Chris Wallace il giornalista di Fox News al quale è toccato l'ingrato compito senza che avesse a dire il vero molte armi a sua disposizione se non fare appello al fair play dei candidati che invece si sono insultati a vicenda interrotti più volte così la commissione si è presa 48 ore di tempo per annunciare nuovi regolamenti che verranno sottoposti in anticipo ai team di Trump e Biden ma senza che nessuno possa chiedere modifiche tra i nuovi poteri attribuiti al moderatore ci sarà e praticamente certo quello di silenziare il microfono a chi non rispetti i limiti formula brutale certo e probabilmente contestatissima ma chiunque abbia visto il dibattito anzi lo scontro di martedì ne capirà la necessità i 65 milioni di spettatori americani che hanno seguito il primo faccia a faccia audience in calo rispetto alle occasioni di altre campagne elettorali non sembrano aver gradito molto lo spettacolo Joe Biden comunque è dato ancora in testa nei sondaggi il passaggio che ha suscitato più clamore nella serata è stato quello in cui Trump di fatto ha svicolato davanti alla richiesta di condannare le associazioni di suprematisti bianchi tra le quali i cosiddetti proud boys noti alle cronache per la violenza anti-immigrati state buoni per ora ma state pronti ha detto di fatto Trump in onda scatenando la reazione entusiasta dei fanatici sui social anche se il presidente il giorno dopo ha tentato una mezza marcia indietro non so chi siano ha detto quello che intendevo dire era di stare calmi e lasciar fare alla legge Joe Biden da parte sua ha detto inutile girarci intorno il presidente si è rifiutato di condannarli anzi ha detto loro di prepararsi perché non è disposta ad accettare il risultato delle elezioni non possiamo permetterci altri quattro anni così nuovo capitolo della Brexit la presidente della commissione europea von der Leyen ha annunciato oggi l'avvio di un'azione legale contro il Regno Unito perché per il mancato rispetto degli accordi presi a suo tempo per regolare l'uscita di Londra la questione riguarda in particolare la legge approvata ieri sera alla Camera dei Comuni sul mercato interno secondo Bruxelles e anche secondo esponenti dello stesso governo britannico sarebbe in flagrante violazione degli accordi sottoscritti dalle parti è una violazione delle regole di buona fede ha detto la von der Leyen che però ha assicurato che i negoziati per l'assetto futuro delle relazioni dopo la Brexit proseguiranno il governo di Londra a un mese di tempo per rispondere e a proposito di botta e risposta non sono mancati quelli nei confronti delle accuse verso Cremlino che ha replicato per una questione di cui abbiamo parlato spesso di cui vi parliamo ora la settimana scorsa è stato dimesso dalla Charité di Berlino dove è rimasto ricoverato dopo l'avvelenamento da Novichok per 32 giorni 24 dei quali trascorsi in terapia intensiva ma oggi Alexei Navalny sta meglio ed ha rilasciato la sua prima intervista affermo che dietro questo crimine c'è Putin titola Der Spiegel non ci sono versioni alternative di quel che è successo accusa il principale oppositore russo che intende rientrare in patria non farò a Putin questo regalo non tornare vorrebbe dire dargliela vinta il mio obiettivo è ora di rimettermi in forma prima possibile e poi rientrare spiega Navalny che racconta il calvario vissuto non senti dolore ma sai che stai morendo e l'uscita dal tunnel con i lenti ma costanti miglioramenti fisici ed ora la felicità di aver recuperato le facoltà mentali anche se dal risveglio dal coma non riesce a dormire senza sonniferi il grazie più sentito lo riserva alla Germania paese che gli ha salvato la vita soprattutto ai medici e alla cancelliera Merkel regista di tutta l'operazione che l'ha portato a Berlino dopo l'avvelenamento del 20 agosto nella città siberiana di Tomsk avvelenamento da novici ciocca gente nervino notoriamente nella disponibilità dei servizi russi che l'hanno già usato in passato per eliminare presunte spie e dissidenti ma è la provenienza del veleno i laboratori statali ad inguagliare il Cremlino tirato in ballo più o meno direttamente da mezzo mondo naturalmente Vladimir Putin nega qualsiasi coinvolgimento ma neppure permette l'apertura di un'inchiesta seria e imparziale ed oggi all'intervista pubblicata da Der Spiegel replica il presidente della Duma Putin ha salvato la vita di Navalny le sue affermazioni sono indecenti il suo avvelenamento è una provocazione dei servizi segreti occidentali lui stesso lavora per loro e serve i loro interessi afferma Vyacheslav Bolodin le accuse di Alexei Navalny contro Putin sono offensive infondate e inaccettabili ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sappiamo che gli specialisti della CIA stanno lavorando con lui in questi giorni ci fermiamo solo per la pubblicità però perché c'è un'ampia pagina sportiva cerchiamo di mettere ordine anche su cosa sarà del campionato di calcio dunque di nuovo insieme seconda parte del telegiornale 48 ore qualcosa in più all'inizio formale della terza giornata di campionato eppure non viviamo certo di certezze lo sapete il caso esploso della positività diffusa in casa Genoana una serie di tamponi che riguardano in queste ore per la seconda tornata anche il Napoli che nell'ultimo turno è stata avversaria dei genoani e la Lega che deve esprimersi deve insomma capire se adottare la normativa UE o farne una propria capire insomma qual è la soglia minima con la quale comunque si richiede a una squadra di andare in campo quel che è certo è che la macchina genoana è totalmente ferma in questo momento il nostro inviato niente allenamento questa mattina neppure per i calciatori del Genoa risultati negativi alla serie di tamponi a cui era stata sottoposta la squadra e personale tecnico dopo la positività di 11 di loro Verami l'ultimo accertato ieri 25 erano scesi in campo domenica pomeriggio a Napoli contro i partenopei al club Rosso Blu non è arrivato il documento dell'Astra di Genova che avrebbe dovuto autorizzare l'attività in quanto ci sarebbero riserve su un ulteriore giocatore del quale si attende l'esito del test nel caso sarebbe il dodicesimo positivo ma il condizionale è d'obbligo e così i cancelli del centro sportivo Gianluca Signorini qui a Multedo di Pegli restano chiusi per il terzo giorno consecutivo in attesa dell'esito degli ulteriori tamponi se i giocatori negativi ieri risulteranno negativi anche oggi in gruppetti di sei potranno svolgere nel pomeriggio un allenamento sicuramente anomalo difficile comunque che il Genoa possa scendere in campo sabato pomeriggio a Marassi per affrontare il Torino l'ultima decisione spetta la rega calcio che è riunita per decidere l'eventuale posticipo dell'incontro stessa sorte cioè il rinvio potrebbe abbattersi come una mannaia sul match club Juventus-Napoli qualora tra i partenopei dovessero riscontrarsi delle positività i tamponi effettuati ieri dai calciatori del Napoli sono tutti negativi oggi verranno ripetuti prima dell'allenamento la Lega dovrà decidere anche sull'adeguamento del protocollo alle direttive UEFA che prevedono la possibilità di scendere in campo con 13 giocatori disponibili compreso un portiere ipotesi che ieri non ha trovato la totale unanimità dell'Assemblea ma sulla quale si tornerà sicuramente a dibattere penso penso che non ci sia scritto ma loro pensano che noi ci alleniamo regolarmente gli altri cosa che non sta succedendo questo è il problema non è tanto la regola ci può stare non è vi dico come Genoa non è che non vogliamo giocare è impossibile giocare così in questa situazione in più chi non è positivo si può allenare a gruppi però il sabato la domenica dico sabato perché è sabato della partita possiamo andare in aria scontrarci attaccarci e cercare di fare gol arrampicarsi su un altro giocatore o essere a contatto con il sudore con la saliva e con tutto non ancora in questi termini però sono incogniti che potrebbero toccare anche una competizione importante come la Champions League nel pomeriggio arriveranno i sorteggi della prima fase lo sapete è una competizione che riguarda paesi che hanno numeri ben diversi dai nostri piena seconda ondata di Covid nel frattempo si proverà a garantire tutte le partite che riguardano innanzitutto la Juventus che nel sorteggio sarà testa di serie poi ci sono altre tre squadre Inter Lazio e Atalanta che invece partono dalla terza fascia queste ultime tre sono state protagoniste con diversi gradi di soddisfazione del recupero di ieri due indizi a volte bastano già per fare una prova e le sonanti vittorie esterne di Inter ed Atalanta sono già più di una prova di identificazione delle squadre chiamate a recitare il ruolo di anti-Juve accomunati dai colori tuttavia i due team rafforzano le loro ambizioni in modi decisamente differenti se la mentalità della squadra di Conte era già quella plasmata di immagine e somiglianza del tecnico ciò su cui l'allenatore pugliese aveva incessantemente recriminato nella scorsa stagione era il gap di organico rispetto ai bianconeri un gap che appare inequivocabilmente colmato per quantità ma soprattutto per qualità contro il neopromosso benevento dell'amico Pippo Inzaghi ieri sette erano i titolari differenti rispetto alla rocambolesca vittoria contro la Fiorentina senza che al mutare dei fattori sia cambiato il risultato finale nove reti segnate in due partite penso che la soddisfazione migliore per un allenatore è vedere che cambiando sette giocatori lo spartito la musica che viene suonata è sempre la stessa e la dimostrazione quindi che c'è un'organizzazione diverso il percorso di ambizione dell'Atalanta Gasperini conta sulla medesima ossatura della scorsa brillantissima stagione ma nel match contro la Lazio e Bergamaschi hanno dimostrato il passo avanti in termini di maturità anche nel precedente confronto con i bianco celesti l'Atalanta si era trovata avanti 3 a 0 dopo il primo tempo salvo però farsi raggiungere dalla Lazio abile allora ad approfittare della iper aggressività degli avversari questa Atalanta al contrario sembra aver imparato a gestire i match come deve fare ogni club quando vuole scrivere una nuova storia da protagonista un posto nella storia che nel suo piccolo ha già scritto ieri lo Spezia che completando la serie di vittorie esterne nei tre recuperi ha siglato il suo primo successo in Serie A andando a vincere in casa di un Udinese ancora a 0 punti con il definitivo completamento della prima giornata Inter e l'Atalanta raggiungono in testa punteggio pieno il Napoli il sorprendente Verona ed il Milan Milan che stasera un altro appuntamento fondamentale della sua stagione in Portogallo contro il Rio Ave i rossoneri ancora senza Ibrahimovic causa Covid-19 si giocano in partita secca all'accesso ai gironi di Europa League in ballo certo una quindicina di milioni di euro utilissimi per ulteriori rinforzi dopo quello ufficializzato stamattina del norvegese Haug ma soprattutto un ulteriore indizio per comprovare di essere pronti a tornare a recitare da protagonisti su qualunque proscenio Protagonisti sul proscenio della Terra Rossa di Parigi gli azzurri del tennis una carica guidata da Sinner che ha pochi precedenti anche in termini di partecipazione numerica al terzo turno vediamo Non accadeva dal 1958 quattro italiani al terzo turno del tabellone maschile del Roland Garros Sinner Travaglia Cecchinato è sonego oggi tocca Berrettini che affronta il sudafricano Harris ma l'ultimo acuto del tennis italiano è però al femminile protagonista Martina Trevisan numero 159 del mondo che nel secondo turno del tabellone ha battuto l'americana Goff 100 posizioni di differenza nella classifica ATP è attesa come prossima protagonista una giornata storta però per la Goff che ha collezionato ben 19 doppi falli l'Azzurra ne ha approfittato con grande freddezza e ha gestito al meglio anche uno dei momenti cruciali del match nel terzo set quando una chiamata del giudice di linea poteva stravolgere le sorti della partita che ha chiuso 4-6 6-2 7-5 una di quelle vittorie che ti fanno maturare la Trevisan a 26 anni 10 anni fa era considerata una promessa ma poi travolta dalle aspettative non realizzate cadde in depressione tanto da smettere con il tennis per 4 anni ora è tornata forse qualche posizione indietro nelle classifiche ma con una grande maturità invidiabile la cosa che avevo preparato è quella di essermi fatta vedere sempre attiva sempre presente che non ti mollo un punto fargli capire che io non ti mollo un punto se vuoi vincere devi vincere te perché io non ti mollo niente ci fermiamo vi ricordo Tagadà come sempre tra poco informazione che torna alle 20 noi domani alle 13.30 con il telegiornale una buona giornata davvero a tutti voi grazie a tutti